Ah, Lemon. Tangerine? Stai sanguinando. Oh, ma non è il mio. Oh, non è il tuo? Sì, io non sanguinò. Cioè, così, lascia pure aperta la giacca. Fallo vedere a tutti. Voglio che guardino la mia cravatta. Sì, sì. Chiudi il cappotto così nessuno lo nota, Lemon. Noteranno prima i nostri infantili nominco. Dice se deve essere frutta, perché non apple o orange. Che c'è nella valigetta? Lo chiedi davvero? Sai che c'è lì dentro. Soldi. Sono sempre soldi. Il mandarancio è raffinato. Oh, adesso chiamo un frutto raffinato. Sì, è un ibrido con un altro frutto. È adattabile. Come me. Perché io, Lemon? Perché sei acido. Cazzate. Limonata, caramelle. Hai mal di gola? Meringata al limone. Quando hai mangiato l'ultima volta la meringata al limone? Torta al limone. Scusa, ma stai parlando di limone? Non ce l'ho con i limoni. Odio i nomi codice.